Un attimo, siamo in onda, siamo in collegamento telefonico con Andrea, Andrea da Macao. Andrea, ciao, mi senti? Ciao a tutti, buonasera. Ciao Andrea, allora ci racconti un po' che sta succedendo lì a Milano? Allora sta succedendo l'impossibile, sta succedendo qualcosa che nessuno avrebbe potuto pensare dopo tanti anni. Sta succedendo che si è scoperto che c'è a Milano un gran desiderio di partecipazione e di incontro, soprattutto questo probabilmente. Prima di tutto creare un luogo nuovo di relazioni, incontrarsi, scambiarsi delle cose, iniziare a vedere con lucidità quali sono i punti di crisi di un sistema nel suo piccolo cittadino che sono anche da attraversare, da sollecitare, perché c'è bisogno di un miglior ambiente per tutti. Senti, noi della Balena siamo stati su a Milano il 5 marzo, quando siamo entrati. Siamo entrati insieme, così come è accaduto che i fratellini milanesi sono venuti giù per l'occupazione dell'asilo Filangiri. Siamo entrati in un grattacielo e naturalmente essendo stati con voi in contatto costante in questi giorni, adesso la location è cambiata. Sì, stavamo veramente bene in quel grattacielo. Abbiamo fatto negli ultimi 15 giorni, ci sono state a Milano tre occupazioni, la Torre Gallo, la strada e adesso Palazzo Citterio. Il palazzo, iniziato a costruire negli anni 50, ad un certo punto si è fermato, è diventato una di queste bare vuote che costellano il centro cittadino. Scheletri che sottragono il territorio all'ambiente nel quale viviamo, che rappresentano, sono simboli di quello che significa una finanza, i processi speculativi legati all'edilizia, che preferisce lasciare vuoti degli spazi per poter generare ancora più profitto. La Torre Gallo è stata percepita da subito così, come un simbolo da riempire con energia desiderio. E si è accesa una lampadina nella testa di tanti milanesi e non, che vivono però insieme nella città, e che hanno riempito quello spazio con un'ondata di creatività, di desiderio di sviluppare il proprio lavoro all'interno dello spazio e di farlo insieme agli altri. Questa è stata la cosa più straordinaria di questi giorni, cioè quella di riuscire a tenere insieme vari piani, quello artistico, quello della ricerca, quello di uno sguardo alla cultura e quello politico. che ci permette di intervenire per trasformare lo stato di cose nel quale viviamo. Andrea, l'ultima domanda. Naturalmente oggi, rispetto alla critica iniziale, perché come racconti è cambiata in tre diverse fasi l'occupazione di Macao, rispetto alla critica iniziale della speculazione edilizia, della centrificazione, oggi entrando in questo nuovo spazio la critica è sui eventi culturali, sui grandi eventi, su come non portano ricchezza, non portano permanenza. Si può dire che è molto simile alla critica che stiamo facendo noi a Napoli. Quindi in questo siamo vicinissimi e forse potremmo... Vabbè, voi che conoscete le nostre idee sui grandi eventi, quindi si può dire che possiamo cominciare a fare delle battaglie comuni anche su questi contenuti. Sì, perché comunque non c'è differenza tra latitudini e longitudini. Viviamo le stesse questioni e solo insieme possiamo pensare di affrontarle per poterle risolvere. Questo facendo rete, facendo network, ormai è una scossa che attraversa l'Italia, quella che dalla Sicilia, Napoli, Roma, è arrivata a Milano e ancora si pronunciano mobilitazioni e azioni di questo tipo. I grandi eventi sono quell'aspetto più becero della politica di intervento nella città, sempre presentati così con grandi aspettative per la capacità di attrare finanziamenti. Però se vediamo a quello che hanno lasciato sui territori è veramente gran poco. E questo a livello globale. Shanghai, che ha ospitato l'ultimo Expo, ha interi quartieri, interi quartieri vuoti e completamente disabitati. E' forse una questione anche culturale, in altri paesi è andata diversamente. Qui noi, entrando a Palazzo Cittario, liberando questo spazio abbandonato da 30 anni, sui quali si specula, anche qui e ancora, su questo progetto di Grande Brera, per il quale sono stati stanziati fino adesso 23 milioni di euro, però su una stima di 160, si pronuncia ancora come una scatola vuota. Ovvero una vetrina, probabilmente, in occasione di questo grande evento dell'Expo, nel quale presentare la città di Milano per quello che non è, per quello che non riesce a fare, per quello che non è possibile in queste condizioni oggi realizzare. Però è sempre quell'esposizione falsa alla quale ci hanno abituati. Però forse in questo momento il re è un po' più nudo e si vede attraverso. Noi siamo lì e stasera ci sarà una prima assemblea cittadina contro il cittadino dedicato proprio al progetto Grande Brera, dove noi inizieremo a far circolare il dossier che abbiamo messo insieme in questi giorni e che racconta proprio i passaggi legati a questo palazzo meraviglioso del Settecento e che è stato sventrato negli ultimi anni attraverso diversi interventi e che ancora oggi vuole essere quella riproposizione di una cultura falsa, fatta di bookshop, ristoranti e molto poca cultura. Grazie Andrea. Guarda, allora, forza Macao, forza Silo, uniamoci su Battaglie Comuni, oggi siamo più forti anche con Milano e presto ci rincontreremo. Noi mandiamo un video dello sgombero di Macao e dell'occupazione, scusa, della nuova occupazione, sì perché ci siamo riaggiornati intanto e quindi in bocca al lupo per Macao. Ciao Andrea. Crepi, Macao a tutti, ciao, arrivederci.